Oggi di presentare questa sede del conservatorio di Catanzaro e presentarla così allestita, di questi strumenti che l'amministrazione comunale, rintrasciando questa nostra richiesta di utilizzare gli strumenti che erano allocati a Palazzo Rossi, destinati all'origine sempre per un'esperienza di conservatorio qui in città e di darli in concessione al conservatorio. È veramente un'emozione perché vedere queste aule e anche il valore simbolico di questi strumenti che erano allocati, non utilizzati da anni all'interno degli spazi di Palazzo Rossi, strumenti che rammento, professionali, quindi non utilizzandoli se ne perde anche il valore e anche la possibilità di più economie per poterli mettere in uso. Quindi il valore anche di questa restituzione che si dà a un conservatore, alla città, ai ragazzi, agli studenti che possono fruirli. È un'emozione anche perché poi vederla andare dentro questi ambienti, in questa parte anche del centro storico della città, vivere e sentire musica, quindi un polmone che parla di cultura, alta formazione, fa veramente piacere.